Nel caso di Giulia è sicuramente prevista una laurea perché Giulia aveva terminato tutti gli esami e aveva già consegnato anche la tesi. Quello che io voglio fare però è rispettare in questo momento il dolore dei genitori perché la cerimonia deve essere necessariamente concordata con la famiglia. Ci vorrà del tempo però ci sarà una cerimonia, quella di Giulia Cecchettin non sarà una laurea alla memoria ma un riconoscimento ufficiale. Lo sottolinea la rettrice Daniela Mappelli e lo ribadisce il ministro dell'università Anna Maria Bernini. È un simbolo ma è anche una persona, è una persona di cui bisogna rispettare la storia, il dolore della famiglia e ha detto bene non è una laurea onoris causa, è la sua laurea che si è guadagnata con un percorso di studi eccellente a cui lei teneva moltissimo. Quindi non possiamo dimenticare Giulia, poi Giulia è anche un simbolo, non sarà un simbolo ma Giulia è Giulia. Non solo questo però perché saranno molte le iniziative per ricordare la studentessa 22enne. Antonio Tajani, il nostro vicepresidente, ha già predisposto delle borse di studio per studenti stranieri da dedicare a lei. Poi ciascuno di noi per la sua parte, io non posso anticipare le iniziative delle singole università, farà qualcosa. Giulia è stata una grande studentessa, è stata una persona dolcissima, tutti noi abbiamo davanti agli occhi Giulia che abbraccia l'albero con i suoi pupazzetti attaccati allo zaino, insomma. Le hanno portato via tutto, non meritava, nessuno merita una cosa del genere. È necessario un cambio di passo, sottolinea il ministro Bernini. Sensibilizzare, sensibilizzare, portare le persone a capire che nelle relazioni umane non bisogna fare quello che non si vuole ricevere. Concetto banalissimo ma a volte troppo elementare per essere metabolizzato fino in fondo. Una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità universitaria e non solo, sottolinea la rettrice Daniela Mapelli. Ho cercato di provare a immedesimarmi come madre anche, oltre che come docente o tantomeno come rettrice, sia da una parte che dall'altra e penso che sia un dolore atroce, atroce. E in questo momento mi sento di dire che siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia ma siamo anche vicini alla famiglia di Filippo perché nessuno di noi pensa di avere un assassino dentro le mure domestiche.